Ciao, oggi a Villa Sant'Uberto, in compagnia di Daini, parleremo del Bull Mastiff. Il Bull Mastiff è un cane di origine britannica che nasce dall'incrocio tra l'antico Mastiff e il Bulldog. Essendo molto intelligente e coraggioso, fu utilizzato come cane da guardia. E nei tempi antichi, come aiuto dei guardiacaccia, per la cattura dei bracconieri. Possiede una struttura possente e simmetrica. È al 60% mastino inglese e al 40% bulldog. È robusto, potente, ma non pesante. La sua altezza algarrese è dai 64 ai 69 cm per i maschi e dai 61 ai 66 cm per le femmine. Il pelo è corto, duro, resistente alle intemperie. I colori ammessi sono il fulvo, il rosso e il tigrato. Essenziale è il nero al muso sfumato verso gli occhi, che con le macchie scure che li circondano, conferiscono al Bull Mastiff la sua tipica espressione. È un cane equilibratissimo, amichevole con gli umani e fantastico con i bambini, con i quali ha un'infinita pazienza. Ma sa trasformarsi, in caso di necessità, in un coraggioso guardiano. Passa però alle vie di fatto solo se viene ignorato il suo avvertimento. Tuttavia, guardandolo, chi avrebbe il coraggio di ignorarlo? Io e Daini vi salutiamo, seguiteci sul nostro canale YouTube. Grazie a tutti!